Siamo alla quarta puntata della rubrica lavorare di meno e guadagnare di più. Oggi vi voglio parlare di un argomento. Metti tutti gli ingredienti sul tavolo. Sono Pino Mangione, il cosiddetto geometra con gli stivali, e in questa rubrica sto condividendo con te tutti i miei spunti di successo. Vedi, spesso noi iniziamo dei lavori senza avere la condizione o tutto quello che ci serve per fare il lavoro. Quando tu prepari una torta o cucini o qualcuno che fa questo, che cosa fa? Verifica prima se ha tutti gli ingredienti, li mette sul tavolo, li pesa e poi inizia a cucinare perché non vede che manca il lievito quando la pasta è già impastata. Ecco, lo stesso dobbiamo fare noi con il nostro lavoro di topografia, con il nostro progetto, con il nostro lavoro di catastro. Non dobbiamo mai iniziare un lavoro se prima non ci assicuriamo di avere tutto verificato nella giusta misura. Non iniziare un lavoro se non hai gli ingredienti sul tavolo. Quante volte è successo a te, come a me, che iniziamo di fare un frazionamento e ci accorgiamo dopo che ci mancano i punti fiduciali o che ce n'è uno da annullare o che non abbiamo l'atto e non sappiamo effettivamente la proprietà del terreno? Non deve succedere. Questo produce un consumo enorme di denaro, di tempo e spesso anche delle grosse arrabbiature. Quindi, vuoi guadagnare di più? Abbi pazienza e non iniziare il lavoro se non hai prima tutti gli ingredienti sul tavolo. Buona vita da Pino Mangiona Grazie. Grazie.